Sono sguardi che riguardano l'interiorità perché chi dipinge normalmente porta all'esterno quello che ha dentro, quindi vedere l'invisibile è la pittura secondo me. E quindi i luoghi della vita, le emozioni, le sensazioni che maggiormente si provano durante la giornata e durante la vita e poi che vengono rappresentate attraverso i colori. Poi naturalmente il quadro rimane abbandonato alla vista, allo sguardo di chi è di fronte, di chi lo osserva e quindi assume una connotazione nuova, un'immagine nuova che è quello di chi lo guarda. Molti degli acquerelli rappresentano questa città ovviamente dove io sono nata e vivo e l'altra mia terra di adozione che è la Toscana, è una terra che io amo molto e che quindi mi dà molte impressioni, molte emozioni. Non solo quello perché io amo molto la natura e quindi anche l'ambiente naturale è molto rappresentato in questi quadri. Ambiente naturale, animali e proprio natura nel senso di alberi, fiori eccetera. La parte di Daniele Civolani anche quella è molto legata alla rappresentazione degli ambienti e soprattutto della natura, dei fiori anche quella. Quindi in comune abbiamo questo, oltre al fatto della rappresentazione della pittura diciamo e della rappresentazione per immagini, abbiamo questo amore grande per la natura che rappresentiamo sempre nei nostri quadri. Grazie a tutti.